Che significa? Come che significa? Sono incinta Come è potuto succedere? Beh, non so come è potuto succedere, ma è successo Forse è un segno del destino Senti, io non voglio prendere decisioni affrettate Insomma, 45 anni potrebbe essere la mia ultima occasione Tu sai quello che significa, vero? Tutti i nostri piani, la DPSI, le tue lezioni Sì, lo so Per questo ti voglio sapere cosa pensi tu Tu vuoi tenerlo? Sì Anche io Grazie Vedrai che sarei il padre più bravo del mondo